Per noi la musica è tutto, la nostra vita, noi non possiamo respirare e vivere senza la musica. È un grande piacere partecipare in questo festival internazionale per rappresentare il nostro paese, la nostra Unione Italiana dei Ciechi di Palermo. È un piacere soprattutto cantare una canzone così importante. Ha un significato molto profondo e per noi è un onore. Noi studiamo musica da bambine nell'altà di 9 anni e ora abbiamo intrapeso a livello professionale un percorso per diventare insegnanti di musica e musica terapiste. Abbiamo intrapeso questa strada per far diventare la musica parte integrante della nostra vita. Il messaggio che vogliamo inviare al pubblico è di cantare. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.